Nicola, Nicola, ho trovato un altro rudere, ma questo secondo me pure è importante, Nicola. Guarda Luca, questo se non vado errato... Nicola, sta piovendo pur mannac. Nicola, questa qua è una chiesa di San Nicola dei Greci, Nicola. Sono contento che porti il mio nome e credo sia... Ma la conoscevi? Io non la conosco, non la conoscevo e non la conosco tutt'oggi, sarebbe bello approfondire. Però se non vado errato, vado a senso, leggo che è del X secolo. Sì. Ed è l'epoca bizantina. Sì, sì, sì. Però Luca, vedi, qui credo... No, ma pure queste fense fanno parte della chiesa. Sono fense bizantine, pure queste, certo, il X secolo. Oh, bellissimo. La fatti a piantare direttamente San Nicola. Bellissimo, infatti vedi, pure le erbacce sono particolari, guarda Nicola. Guarda, pure le erbacce sono molto particolari. Allora, vedi un attimo, qui le erbacce crescono un po' dappertutto, però il problema di questa chiesa, Luca, vedi, c'è stata fatta una copertura, immagino tra l'altro che questa copertura possa reggere il tempo che basta, eh. Ma secondo me fra poco, caro, è proprio Nicola. Eh, forse... Nicola, fra poco se ne cade, Nicola. Necessita di qualche intervento. Sì. Io non so neanche se sia di un privato o di uno... Ma secondo me sarà privato, Nicola. Di uno soggetto pubblico, di uno o più privati. Sì, sicuramente. Tanto sta che questa struttura cade a pezzi, ed è un peccato, perché cadendo a pezzi succedono due cose. Ma qua sono venuti pure degli americani, Nicola, a visitarla. Forse quattro risate, Luca. E che hanno visitato qua, Nicola? La stela. Maronna, Nicola, ma facciamola vedere un attimino. Allontaniamoli. Si vede pochissimo, Luca. Ma pure qua, una luce, Nicola. Più ci allontaniamo e peggio è. Ad ogni modo, Luca, io direi di lasciarci adesso chiudere queste immarci. Magari contattiamo qualcuno che ne conosce la storia di questo edificio. Ricordiamo a chi non conosce queste strutture, qua siamo in pieno centro storico. Sì, siamo in pieno centro storico. E comunque, come sapevatelo, abbiamo una chiesa del X secolo, epoca bizantina, che sta cadendo a pezzi, e c'è un duplice rischio. Uno che cade a pezzi un monumento, l'altro invece che cadendo a pezzi un monumento forse qualcuno si fa male. E chi va, Paolo? A voi. E io mago. E io mago. E io mago. Buonasera.